buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata di face to face la rubrica di simplybeats oggi di nuovo con noi genio diligence abbiamo con noi daniele giuliani ceo buongiorno ben genio ne parlavamo prima fuori onda ci conosciamo ormai da più di un decennio siete sul mercato dei mutui diciamo conosciuti per il mercato dei mutui da da molto da molto tempo però insomma nel frattempo l'azienda si è evoluta e cambiata ha cambiato anche pelle in alcuni casi però partiamo dal corno mediatori creditizi vi conoscono per alcuni servizi anche le banche per altri ricordiamoli rapidamente quali sono i servizi che voi date noi storicamente diamo servizi di antifrode noi certifichiamo la documentazione di tutto il mutuo e nasciamo così quindi prima per il supporto per quanto riguarda tutti i mediatori creditizi poi abbiamo cominciato a portare anche questo tipo di servizio che ad oggi rimane il nostro servizio core all'interno anche di tutte le banche le banche prima che utilizzavano i mediatori e poi anche banche terze parti nuove che attualmente stanno usando i nostri servizi insieme servizi che si sono evoluti oggi anche l'intelligenza artificiale dal 2018 abbiamo cominciato un percorso di innovazione quindi in tempi non sospetti abbiamo cominciato a utilizzare sistemi di intelligenza artificiale all'inizio molto minimali e li abbiamo introdotti nei nostri sistemi interni e fino ad oggi che invece abbiamo cominciato a produrre ea fornire un pochino a tutti ad alcuni mediatori che ci hanno fatto richiesta ed alcune banche con cui collaboriamo per la propria per la digitalizzazione del mutuo oltre a favorire come dire la correttezza della pratica in realtà voi i vostri servizi si stanno ampliando anche al agevolare l'intero processo della pratica come ad esempio mi stavi raccontando del nuovo progetto quello con credit agricole si praticamente abbiamo fornito la nostra piattaforma proprietaria al a cia con la possibilità di avere una piattaforma non solo di digitalizzazione ma anche con dei servizi che sono aggiuntivi cioè usando l'intelligenza artificiale riusciamo a dare una grande mano quindi andiamo ad agevolare il migliore di creditizio con un'attività di onboarding molto più snello e molto più veloce e quindi questo accorcia anche i tempi della pratica di onboarding stessa e alla banca forniamo tutta una serie di dati e di informazioni che estraiamo ed elaboriamo non solo in ambito di antifrode ma proprio come sette informativo per i loro sistemi interni quindi permettendo così alla banca di riuscire ad accorciare in maniera importante i tempi sia di delibera che i tempi di delivering proprio del della pratica stessa sempre prima mi stavi accennando che ci sono ancora degli aspetti che sono giustamente segretati però l'obiettivo è quello di arrivare a una diciamo una pratica full digital nel mondo del mutuo assolutamente sì infatti la nostra aspettativa è quella nel giro di qualche anno di creare un processo totalmente full digital della pratica di mutuo la pratica di mutuo dal divano me la chiamo io quella che praticamente puoi fare la sera quando torni a casa senza per forza prendere l'ora di permesso la mezza giornata di ferie per completare la pratica come oggi succede quindi far sì che sia una un'esperienza una buona esperienza per il cliente e non un'esperienza da vivere con stress come succede spesso oggi detto questo già è già sfidante questo però quali altri servizi pensi possano arrivare nei prossimi anni come innovazione del settore e che a cui state già magari ripensando sicuramente noi stiamo pensando a un modello di kvc con ml molto avanzato e molto digitale che rispetti non solo tutti i canoni di tipo bancario quindi pensiamo alle norme etsy ma che riesca anche a come sempre a dare una experience all'utente finale ottima perché l'aspettativa che noi abbiamo per il futuro è non mettere gli istituti o le banche o i mediatori al centro ma il cliente al centro delle di tutta l'attività finanziaria questo potrebbe permettere anche di andare oltre il mondo bancario certo assolutamente a molto tempo del bancario perché è un modello che si può trovare anche in altri sistemi non solo finanziario ma anche per esempio di riconoscimento per tutti quelli che sono gli ambiti di rilascio di identità ed as per esempio oppure per quelli che sono gli le attività di di onboarding qualificato in settori per esempio non finanziari pensiamo al leon boarding delle delle associazioni leon boarding delle delle attività automotive non finanziarie quindi diciamo che ci sono a tanti aspetti che possono essersi in considerazione bene allora intanto ti ringrazio grazie per averci spiegato quale sarà il prossimo futuro almeno per come lo vedete voi io ti darei appuntamento magari qualche mese più avanti per vedere insomma da questi sviluppi poi concretamente come si sono realizzati ti ringrazio l'invito lo prenderemo sicuramente perché poi nei prossimi mesi addirittura ci saranno già delle nuove evoluzioni alcuni nuovi servizi che forniremo quindi saremo contenti di darne notizia benissimo grazie e a presto grazie